chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato a chi è stato rivelato il braccio del signore egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella come una radice che esce da un arido suolo non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi né aspetto tale da piacerci disprezzato e abbandonato dagli uomini uomo di dolore familiare con la sofferenza pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna tuttavia erano le nostre malattie che gli portava erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato ma noi lo ritenemmo colpito percosso da dio e umiliato isaia capitolo 53 versetti da 1 a 4